Una nuova palestra all'interno del complesso degli ex salesiani di Faenza. Dopo Palazzo Naldi, del primo e secondo piano, del campo sportivo, delle aule ad uso dell'università, della scuola di musica e dei locali commerciali, adesso si riporta la fruizione anche quelli che saranno adibiti al fitness. Questo ulteriore passo per noi rappresenta la chiusura di un cammino, un cammino che abbiamo fatto assieme all'amministrazione di Faenza e assieme a Faenza Sales, che vede finalmente questa piazza all'interno della Corte completarsi, dove quindi troviamo gli spazi dell'Ivorcaffè, l'Agenzia per il Lavoro e adesso anche finalmente Overcam. L'Astra ha degli spazi che definirei fantastici, sono molto ampi, spazi che ricordano il passato ma con tantissima nuova tecnologia. Il binomio e l'aiuto di Tecnogym sicuramente è un centro di ultima generazione per quanto riguarda i macchinari. Per quanto riguarda l'offerta sarà un progetto che offrirà il normale servizio fitness per qualsiasi tipo di utenza, dai giovani ai più adulti e si accunerà anche al discorso del team sportivo, cioè ha un discorso un po' più atletico e per gli amanti delle discipline di endurance come il team ovviamente ricopre.